Ariete presenta SunnyJet, il nebulizzatore igienizzante che in combinazione con SunnyJet Clean garantisce un'igiene completa su tutte le superfici. L'efficacia di SunnyJet Clean è stata testata in laboratorio dall'Università di Pisa e tutte le superfici sono risultate perfettamente igienizzate. SunnyJet igienizza la tua casa e igienizza il tuo luogo di lavoro. Gamma SunnyJet, l'igiene degli ambienti a caso sul lavoro contro le pandemie. Ariete, il genio della casa.